Forse non basterà un robot a salvare il mondo dal cambiamento climatico, ma la tecnologia potrebbe aiutare il pianeta nella lotta alla deforestazione, come sta accadendo in Amazzonia. Un progetto pilota in Peru sta utilizzando un robot per piantare i semi per aiutare l'imboschimento dell'Amazzonia, dove la foresta pluviale e le biodiversità sono seriamente minacciate. In vista della giornata mondiale della foresta pluviale del 22 giugno, l'organizzazione senza scopo di lucro Jungle Keepers mostra come impiegare i robot nella lotta contro la distruzione della foresta, spiegando che il loro impiego potrà rappresentare un punto di svolta, come spiega Moisin Casmi, amministratore di Jungle Keepers. I minatori e i tagli a legna si servono di tecnologie avanzate, con le quali possono distruggere tanti alberi. Utilizzare quindi un robot per aiutare la gente nel posto a piantare alberi può rivelarsi molto utile per combattere la velocità di tagli a legna a distruggere la foresta. Yumi è alimentato da pannelli solari ed è connesso al remoto tramite Wi-Fi satellitare solare. Una volta posizionato, il robot può lavorare tutto il giorno. Casmi, amministratore di Jungle Keepers, ne è entusiasta. Questo robot è incredibilmente agile ed è in grado di piantare velocemente i semi per il nostro vivaio, liberando i nostri ranger per svolgere altri compiti fondamentali per il programma di riforestazione. Gli ambientalisti stanno ora studiando la fattibilità della creazione di impianti di piantagione di robot su larga scala nelle comunità amazzoniche. Questo consentirebbe potenzialmente di piantare migliaia di semi ogni giorno, così da dare nuova linfa alla foresta pluviale più grande del mondo, polmone verde del pianeta. Grazie a tutti.